Salve ragazzi, oggi sono qui per trattare di un argomento via zanzara molto toccante, la fame nel mondo, perché noi sappiamo che in Africa ci sono tantissimi bambini, tantissimi bambini che non hanno da mangiare, che muoiono di fame, non hanno nemmeno l'acqua, e noi invece c'è gente che ad esempio butta il cibo e niente, quanti ostrozzi possono essere, scusa, ho visto di recente, ho visto di recente un servizio dove la facciamo vedere, che l'unica acqua che hanno lì è tipo sporchissima, poi da mangiare sono magrissimi, bisognerebbe donare soldi, così si possono fare mezzi agricoli, coltivare meglio, eccetera, perché noi abbiamo già buona questa focaccia, quindi diamo a loro i soldi per farsi i mezzi e tutto per coltivare di più, non che gli diamo i cibi, cioè va bene anche il cibo, però, comunque il video finisce qua, volevo fare appunto una piccola riflessione, e niente, adesso vado a prenderlo da bere.